Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Dunque oggi parliamo di un caso che mi avete chiesto in tantissimi e capisco perché, è un caso davvero assurdo e inspiegabile. La prima volta che ho sentito parlare di questo caso è stato sul programma Unsolved Mysteries su Netflix e ricordo di aver passato giorni e giorni a pensarci, quindi per questo sono contenta di parlarne oggi qua sul mio canale. Oggi parliamo della famiglia Dupont de Ligonnet e questo è un caso francese e di conseguenza sappiatelo sarà pieno di nomi e parole francesi, più che altro nomi che io non saprò pronunciare perché parlo solo l'italiano e l'inglese, il francese proprio no, quindi abbiate pazienza. Questo caso è appunto francese ma in realtà ha fatto il giro del mondo e capirete perché. Se non lo conoscete, è un caso molto famoso quindi magari lo conoscete già ma se non dovesse essere così preparatevi perché davvero non vi farà dormire la notte. E tra l'altro ci sono tantissimi elementi di questo caso che mi ricordano il caso della famiglia Thoth, di cui ho parlato poco tempo fa qua sul mio canale. Ha davvero tante similitudini inquietanti ed è incredibile come questi elementi disturbati, queste persone disturbate agiscano in un modo così simile, proprio nei dettagli. Comunque capirete il perché più avanti nel video. Dunque la famiglia Dupont era formata da Xavier e Agnes, i genitori, e i loro quattro figli Arthur, Thomas, Anne e Benoît. E questa non era una famiglia come tutte le altre perché discendevano da un'antica famiglia di aristocratici francesi. Xavier nasce il 9 gennaio del 1961 a Versailles e suo padre era un conte, il conte Bernard Hubert Dupont de Ligonet. Scusate la pronuncia, comunque questo suo titolo alla sua morte sarebbe passato ovviamente a suo figlio Xavier. Quindi la sua era una famiglia di nobili e questa cosa per Xavier era motivo di orgoglio, anche perché la sua era una delle famiglie aristocratiche più antiche della Francia. Ma questa nobiltà in realtà significava ben poco, nel senso che il padre di Xavier non era ricco come uno può pensare, anzi tutto il contrario. Il padre di Xavier infatti non era ricco per niente e non era neanche stato un buon padre per Xavier perché quando aveva solo 10 anni aveva deciso improvvisamente di abbandonare lui e sua mamma per trasferirsi in Africa lasciando il piccolo Xavier da solo a crescere appunto con sua madre che aveva continuato ovviamente a prendersi cura di lui. Ma sua mamma non era tanto centrata, diciamo così, era una donna estremamente religiosa e quando dico estremamente intendo dire troppo. Faceva parte infatti di una specie di setta con credenze un po' strane di cui non entrerò nei dettagli, ma era anche convinta di ricevere messaggi dal suo Dio che l'avvertivano di un imminente apocalisse. E ne abbiamo viste tante di queste personcine qua nei miei video, no? Che ricevono messaggi da Dio e non portano mai a niente di buono. Ma nonostante questo sembrava che Xavier fosse cresciuto bene in un modo o nell'altro, anzi crescendo diventa un ragazzo anche di discreto successo, soprattutto con le donne. Si iscrive alla facoltà di ingegneria dove si laurea e dove incontra quella che diventerà la sua futura moglie, Agnès. All'età di 20 anni, mentre invece Agnès ai tempi ne aveva 16 e iniziano a stare insieme da subito. Agnès era nata il 9 novembre del 1962 a Parigi ed era una ragazza molto semplice, conservatrice e alcuni direbbero quasi all'antica. E Agnès si innamora follemente di Xavier, invece lui non tanto, perché non era ancora pronto a mettersi in una relazione seria, come ho già detto, aveva un discreto successo con le donne, quindi non era ancora pronto a rinunciare a tutto questo divertimento. E oltre questo aveva anche intenzione di viaggiare per il mondo. E la cosa è anche comprensibile, alla fine aveva solo 20 anni, quindi posso capirlo. Comunque ad un certo punto decide di lasciare Agnès, proprio per appunto viaggiare in giro per il mondo. Ma quando un anno dopo era tornato a Versailles, aveva ricontattato Agnès, ma aveva scoperto che era rimasta incinta di un altro uomo, con cui però non aveva nessun contatto. Ma Xavier decide comunque di sposarla e di allevare quel bambino come se fosse il suo, dandogli anche il suo cognome. E questa cosa per Versailles era strana, per quel mondo di cui Xavier faceva parte e di cui andava così fiero. Nella nobiltà nessuno sposa una donna già incinta ed ha il proprio cognome al figlio maschio, invece Xavier l'aveva fatto e questa cosa viene vista da molti come un gesto coraggioso. Dopo Arthur la famiglia Dupont si allarga ancora, Xavier e Agnès danno alla luce i loro altri tre figli. Thomas che nasce il 28 agosto del 1992, Anne che nasce il 2 agosto del 1994 e infine il più piccolo, Benoît, che nasce il 29 maggio del 1997. In quegli anni la famiglia aveva cambiato varie città in Francia, vivendo con i soldi della moglie, Agnès, che ovviamente era anche lei di buona famiglia, e stava sfruttando un'eredità che le avevano lasciato. E nel 2000 Xavier aveva anche provato a far trasferire tutta la famiglia in America, in Florida. Perché lui aveva sempre avuto un po' questo desiderio di realizzare un po' il sogno americano e aprire lì il proprio business. Aveva sempre sognato di avere una vita di successo. Non voleva proprio accontentarsi, ma purtroppo invece non ci riesce. Prova diverse volte ad investire in vari business, non so bene nel dettaglio quali, ma comunque tutti questi business andavano sempre con il fallire. Quindi alla fine questo tentativo di trasferirsi in America anche lui fallisce. Xavier deve rinunciare a questo sogno americano anche perché cercando di realizzarlo aveva speso tutti i suoi soldi. Quindi alla fine decidono di andare stabilmente a vivere a Nantes, sempre in Francia, al numero 55 della Boulevard Robert Schumann. Quel quartiere era molto bello e ci vivevano persone benestanti, persone cattoliche. E la famiglia Dupont si inserisce molto bene nella comunità. Agnes trova lavoro in una piccola scuola cattolica in cui insegna catechismo. Essendo lei una donna molto religiosa, quello era un lavoro perfetto. Andava frequentemente a messa anche con i suoi figli e chiunque la conoscesse la descriveva come una donna molto gentile, che amava tantissimo i suoi figli ma che sapeva essere anche molto severa con loro. Voleva crescerli con regole molto precise. Xavier inizia anche lui a lavorare ma non è ben chiaro che lavoro facesse. Non è specificato da nessuna parte, ho letto che da quello che si è capito faceva il venditore di qualche genere, ma rimane sempre molto vago questo aspetto della sua vita e pare che addirittura i suoi figli non sapessero che lavoro facesse il padre, cosa che trovo molto strana ma a quanto pare era così. Arthur invece, il figlio più grande, si era diplomato in scienza, tecnologia industriale e sviluppo sostenibile e stava anche studiando per ottenere un diploma tecnico in informatica. E questo ovviamente in una scuola privata e oltre questo lavorava anche come cameriere part time in una pizzeria per mettere qualche soldo da parte. Anche Thomas aveva un discreto successo negli studi. Aveva conseguito un diploma in letteratura e studiava anche musica, cosa di cui era assolutamente appassionato. Anne studiava scienze ed era bellissima. Infatti faceva anche la modella per alcune riviste. Mentre il più piccolo, Benoit, aveva 13 anni a quel punto e andava a scuola. Anche lui andava nella stessa scuola di sua sorella Anne e faceva anche il chirichetto in chiesa. Tutti amavano questa famiglia che da fuori sembrava davvero una famiglia perfetta. Xavier era affascinante, sorrideva sempre. Appariva come quest'uomo d'affari un po' misterioso perché alla fine nessuno sapeva bene che cosa facesse nella vita. E poi era anche un nobile, un conte. La gente lo ammirava ed era una famiglia palesemente affiatata. Avevano questi figli tutti bellissimi. La loro casa era sempre piena di gioia. Con Thomas che suonava sempre qualche strumento. C'era sempre la musica accesa. Avevano anche due bellissimi cani, due labrador neri davvero stupendi. Insomma, in quella casa non ci si annoiava mai. Ma le cose, come spesso succede, non erano perfette come sembravano. Agnes, infatti, non era così felice con Xavier come sembrava. Perché infatti nel 2004 Agnes inizia a scrivere su un forum online in modo anonimo e su questo forum parla, si sfoga un po' dei suoi problemi all'interno del suo matrimonio. Alcuni dei suoi post dicono testuali parole. Ho scritto già diversi post su questo forum, ma con molti username diversi, perché ho paura che mio marito possa scoprirmi. Comunque questi sono i miei problemi. Mio marito è molto all'antica. Ha una mentalità da padre padrone. Ci dà degli ordini e noi dobbiamo eseguirli senza fare domande. Con me non è attento, non è gentile, ricopre solo il ruolo di capofamiglia. E aggiungete poi tutte le preoccupazioni che abbiamo per i soldi e avrete un quadro perfetto di quella che è l'atmosfera in casa nostra. E continua anche dicendo Mi odia quando io e i bambini gli facciamo notare il suo carattere impossibile. Si sente attaccato e umiliato e tutte le volte che gli chiedo ma tu sei felice, lui mi risponde sempre la stessa cosa. Ovvero Sì lo sono, ma se morissimo tutti domani sarebbe meglio. Quindi, ok, Xavier non è proprio l'uomo carismatico, affascinante e sorridente che tutti pensano. Anzi, sembra una persona tormentata, pesante, rigido e per niente affettuoso. Che però questa immagine andava in contrasto con l'immagine che tutti avevano di lui. All'immagine che lui dava in pubblico di sé. Perché tutti lo vedevano come un padre molto affettuoso con i suoi figli. Che si prendeva cura di loro, che li coccolava. E ovviamente l'ultima frase fa davvero venire i brividi per tanti motivi. Pare che l'anno successivo, nel 2005, infatti, Agnes e Xavier si siano anche separati per un po' di tempo. Per poi riunirsi nell'ottobre dello stesso anno. E dopo poco Xavier aveva scritto una lettera a tutti i loro amici, a tutti i loro familiari. E in questa lettera parlava dei problemi che aveva avuto con Agnes. E cercava, tipo, di scagionarsi. Scriveva che la separazione tra i due era stata un'idea di lei. Che lo aveva fondamentalmente sbattuto fuori casa e gli aveva permesso di tornare solo quell'ottobre. Scrive anche che Agnes aveva parlato male di lui a tutti quanti. Descrivendolo come questo uomo burbero con un brutto carattere che aveva scatti d'ira. E lui con queste lettere voleva, tipo, riabilitare il suo nome. Dicendo, guardate che le cose che Agnes vi ha raccontato non sono vere. Anzi, sono anche molto deluso, scrive, del fatto che tutti voi ci abbiate creduto. Perché io non sono quella persona lì. Ma pare che dopo un po' di anni le cose tra i due vadano meglio. Perché, infatti, Agnes scrive di nuovo su questo forum, sempre in modo anonimo. E scrive questa cosa. Scrive che tra i due le cose stavano migliorando e che stavano anche cercando uno psicologo cattolico che potesse aiutarli. Non mi è chiaro se lo abbiano trovato oppure no, ma in ogni caso lei scrive questa cosa. Scrive che le cose andavano meglio. Ma la verità era che in quel periodo Xavier aveva iniziato a tradire Agnes. Quindi le cose non andavano poi così bene. Forse semplicemente lui aveva trovato un'altra poverina che si sorbisse le sue lamentele con cui potesse sfogare le proprie frustrazioni. Infatti vengono successivamente trovate delle mail che Xavier aveva mandato a questa sua amante, una donna molto ricca di nome Catherine, che viveva a Parigi. E in queste mail lui appunto si lamentava, si confidava con lei parlandole dei gravi problemi di soldi che aveva. Nel 2010 le scrive una mail in cui le dice di aver toccato il fondo, di essere disperato come mai prima di allora e di avere disperatamente bisogno di soldi. E le scrive anche che sarebbe morto se non avesse trovato immediatamente 25.000 euro. E scrive anche queste parole, vi cito le testuali parole. La notte non riesco a dormire, rimango sveglio a pensare a cose davvero macabre. Come per esempio dare alla mia famiglia dei sonniferi per poi bruciare l'intera casa. Oppure ancora togliermi la vita così che Agnes potrebbe ereditare 600.000 euro. In ogni caso la mia vita finirà presto se non trovo 25.000 euro immediatamente. Mi sembra di stare in un incubo da cui non riesco a svegliarmi se non facendo qualcosa di radicale. Quindi queste sono le parole che Xavier scrive alla sua amante. palesemente si trova in grossi guai finanziari. E non sappiamo bene perché avesse bisogno di questi soldi. Perché pensa che sarebbe morto se non li avesse trovati. Perché queste parole mi fanno pensare che Xavier avesse dei debiti un po' più importanti dei semplici debiti per la casa e le bollette. Perché scrive che la sua vita sarebbe finita se non avesse trovato quei soldi. Quindi come dire che qualcun altro lo avrebbe ucciso se lui non gli avesse dato questi 25.000 euro. Anche se c'è da dire che tutti i suoi figli frequentavano scuole private. Tutti avevano insomma degli sport e delle attività che facevano. Mantenere quattro figli è molto costoso. Quindi potrebbe anche darsi che i debiti di Xavier provenissero da questo suo stile di vita che non poteva permettersi e che non ne abbia mai parlato a nessuno perché se ne vergognava. D'altronde lui era un conte quindi è possibile che si vergognasse dell'avere dei debiti. Del non essere come gli altri si aspettavano che fosse. Comunque non sappiamo esattamente che tipo di debito avesse. Ma sappiamo che in passato si era già fatto prestare 500.000 euro da questa Catherine, questa sua amante molto ricca. A gennaio del 2011 muore il papà di Xavier, il conte. Muore d'infarto improvvisamente e Xavier deve andare a casa sua a svuotare appunto casa di suo papà. E viene aiutato da un vicino di casa di suo padre che era anche un amico di famiglia. E lui racconta che Xavier in tutto ciò sembrava stesse cercando qualcosa. Perché stava ispezionando tutti gli oggetti di valore di suo padre. Stava sfogliando tutti i suoi documenti. Come se cercasse qualcosa di valore, qualcosa che potesse salvarlo da tutti quei debiti. Ma invece non trova niente. Non trova niente di niente come dice anche lui ad alta voce. E sembra proprio che sia deluso dal fatto che suo padre era praticamente povero. Non aveva più soldi. E probabilmente Xavier non era al corrente di quanto suo padre fosse povero. Forse in fondo sperava che alla sua morte gli avrebbe lasciato qualcosa. Gli avrebbe lasciato un'eredità inaspettata. E questa brutta sorpresa sicuramente non ha giovato al suo stato mentale già molto fragile. Ma una cosa a casa di suo padre la trova. Una cosa riesce a ereditarla. Un fucile calibro 22 che trova in un armadio. Xavier non era mai stato interessato alle armi fino a quel momento. Ma non appena entra in possesso di quel fucile decide di prendere il porto d'armi e di imparare a usarlo. Inizia ad andare al poligono anche insieme ai suoi due figli più grandi, Arthur e Thomas. E si interessa sempre di più a questo mondo. Chiede anche al suo istruttore informazioni a proposito del silenziatore. Cioè come funzionava, a che cosa serviva. E successivamente, pochi giorni dopo, ne compra uno. Il primo aprile del 2011 succede la prima cosa strana. Arthur, il figlio più grande, non si presenta a lavoro. Vi ricordate aveva un lavoro part time in una pizzeria. E quel giorno avrebbe dovuto anche andare a ritirare la sua paga. Quindi il datore di lavoro si sorprende della sua assenza. Non era da lui. Il 3 aprile Xavier insieme a D'Agnès e ai tre figli, tutti tranne Arthur. Ora, questa cosa non era strana perché Arthur era grande. Viveva, se non sbaglio, viveva anche nel campus della scuola. Quindi passava molto tempo lontano dalla famiglia. Quindi non era strano che fossero solo loro con i tre figli. Comunque, loro 5, senza Arthur, vanno a cena fuori e poi al cinema. Quella sera, intorno alle 10.30, Xavier, quando torna a casa, lascia un messaggio in segreteria a sua sorella. Raccontandole della serata, raccontandole che erano andati a cena fuori, che erano andati al cinema. E poi conclude il messaggio dicendole, ci vediamo presto, forse. Il 4 aprile, Anne e Benoit non si presentano a scuola. Loro, appunto, frequentavano la stessa scuola. E i loro compagni all'inizio non pensano nulla di strano. Ma poi, quando provano a contattarli e non ricevono nessuna risposta, allora iniziano a preoccuparsi. Perché non era da loro sparire così. Quella stessa sera, Xavier va a cena da solo con suo figlio, Thomas. Vanno in un ristorante di lusso, in cui lui ordina un menù degustazione da 35 euro con mezza bottiglia di vino rosso, mentre invece Thomas ordina un piatto di branzino con un succo di pomodoro. Ma alcuni camerieri raccontano di aver notato che Thomas, ad un certo punto durante la cena, si era sentito male, non so bene in che modo, e per il resto della cena, lui e suo padre non si erano parlati. Come se ci fosse stato qualcosa che aveva rovinato questa cena, il loro umore, e non si erano più rivolti la parola, c'era tensione tra loro. E dopo quella sera, la famiglia Dupont sparisce, compresi i due cani che da un certo punto in poi non si sentono più abbaiare. I vicini non li vedono più, i ragazzi non si presentano più a scuola. E i vicini di casa, una signora in particolare, che aveva un negozio di sartoria proprio sulla stessa strada, poco lontano dal portone di casa dei Dupont, nota particolarmente questa assenza, perché era sua abitudine vedere tutti i giorni i membri di questa famiglia passare davanti al suo negozio. Ormai per lei era un punto fermo delle sue giornate, Per esperienza so che quando lavori in un negozio, soprattutto che ha magari dei ritmi lenti, impari a memoria la routine, le abitudini delle persone che abitano magari lì vicino e che passano spesso davanti al negozio. Quindi questa signora in particolare nota che da un giorno all'altro questa famiglia era scomparsa. Nota anche un'altra cosa strana, ovvero che le persiane delle loro finestre erano chiuse. E questa cosa era davvero insolita. Lei racconta che la famiglia non chiudeva quelle persiane mai, né di notte, né addirittura quando andavano in vacanza. Nota anche un'altra cosa, era sparita una, non so se avessero più macchine, comunque era sparita una delle macchine della famiglia Dupont, che era una Citroen C5. Quindi lì per lì uno potrebbe pensare, beh, magari sono andati in vacanza, hanno preso la macchina perché sono partiti. Ma quella era una famiglia di sei persone più due cani, anche grossi. Quindi non sarebbero mai potuti entrare tutti e sei più i relativi bagagli dentro quella macchina. Quindi i vicini sentono che c'è qualcosa che non va. L'11 aprile le varie scuole dei ragazzi ricevono una lettera firmata da Xavier in cui affermava che i ragazzi avrebbero lasciato la scuola perché la famiglia si stava trasferendo in Australia. E arriva anche una lettera nella scuola in cui lavorava Agnes, firmata da Agnes, in cui c'era scritto che con quella lettera stava dando le sue dimissioni perché appunto lei e la sua famiglia si stavano trasferendo in Australia. Per motivi personali e lavorativi urgentissimi. La scuola prova a contattare Agnes, i ragazzi, ma non ricevono mai nessuna risposta. E poco dopo spunta anche una nota appesa alla porta d'ingresso della casa dei Dupont che diceva di non lasciare più posta lì, ma di rimandare tutto indietro al mittente. E a quel punto la vicina che aveva il negozio di Sartoria decide finalmente di chiamare la polizia perché controllassero l'interno della casa per essere sicuri che andasse tutto bene. La polizia arriva e trova la porta ovviamente chiusa a chiave e per fortuna decide di chiamare un fabbro per farla aprire. E quando entrano però non notano nulla di strano. C'erano alcuni armadi aperti e mancavano tutte le lenzuola dei letti. Queste erano però le uniche cose che la polizia nota lì per lì e non erano cose strane per loro. Era palese che la famiglia fosse partita di propria spontanea volontà, non c'erano segni di infrazione, non c'erano segni di lotta. Era una famiglia che aveva fatto i bagagli e si era magari portata via le lenzuola e niente di più. Di conseguenza la polizia se ne va. Ma qualche giorno dopo, intorno al 14 aprile, arrivano delle lettere, niente a Xavier piaceva troppo mandare lettere, mantenere questo rapporto epistolare, era proprio un nobile. Comunque arrivano queste lettere a tutti gli amici della famiglia Dupont, a tutti i loro familiari, sia la famiglia di Xavier sia la famiglia di Agnes. E in queste lettere c'era scritto che, come sapevano, Xavier aveva sempre avuto rapporti con gli Stati Uniti per il suo lavoro, che però nessuno sapeva cosa fosse. E fondamentalmente gli americani gli avevano adesso chiesto, l'avevano reclutato come infiltrato per la DEA, ovvero il Dipartimento Antidroga americano. Quindi avevano reclutato lui e tutta la sua famiglia come spie. Avevano di conseguenza dovuto cambiare identità, avevano dovuto cambiare numero di telefono, perché era un'operazione segreta. E quindi non si sarebbero fatti vivi per un po' di tempo. Ed era tutto normale. Erano delle spie adesso. Quindi le persone che ricevono queste lettere pensano subito che Xavier si droghi male, prima di tutto, perché, insomma, quella era la conferma che ci fosse qualcosa che non andava. Anche se in realtà questo lo pensa la famiglia di lei, di Agnes. Pensano che sicuramente lei non se ne sarebbe mai andata senza salutare. Invece la famiglia di lui un po' ci crede a questa storia, perché Xavier era sempre stata una persona misteriosa, un po' strana, quindi pensano che non fosse così strano che adesso facesse la spia. Per me è un'idea stupida, cioè non ti viene in mente una scusa migliore per giustificare che tu e la tua famiglia siete spariti? Facciamo le spie in America, davvero? Vabbè, la famiglia di Agnes chiama nuovamente la polizia, chiedendogli nuovamente di entrare in casa loro e controllare meglio, perché appunto avevano ricevuto queste lettere surreali e volevano capire che cosa stesse succedendo. Perché a quel punto avevano davvero una brutta sensazione. La polizia quindi lo fa, torna in quella casa e questa volta guarda meglio e si accorge di alcune cose davvero inquietanti, come per esempio il fatto che tutte le foto della casa fossero state tolte. Cioè qualcuno aveva lasciato le cornici appese al muro, ma aveva tolto tutte le foto. Tutte le foto che prima erano appunto dei membri della famiglia Dupont. Ma oltre questo non trovano di nuovo niente, quindi di nuovo la polizia dice Vabbè, ma magari sono andati in viaggio, di nuovo con le lenzuola e i vestiti, e si sono portati dietro anche le foto, per avere un ricordo. Ma le famiglie iniziano a fare veramente pressione sulle autorità. Le convincono che tutto quello, tutte quelle cose non erano normali per quella famiglia. Oltretutto provavano a contattarli e non rispondeva, non rispondeva nessuno, quindi c'era qualcosa che non andava. Quindi riescono a convincere le autorità che tornano alla casa una terza volta il 18 aprile, una quarta volta il 19 e una quinta il 20 aprile. Ma sarà solo alla sesta visita, il 21 aprile, che la polizia si convincerà finalmente che c'era qualcosa di strano e quindi decide di aprire un caso, di aprire un'indagine. Il 22 aprile di conseguenza il procuratore distrettuale decide di tenere una conferenza per appunto parlare della sparizione di quella famiglia, del fatto che avessero aperto un'indagine. E come intendevano procedere. Ma a metà di questa conferenza, ad un certo punto il procuratore si alza, si allontana per rispondere ad una telefonata. E quando torna, annuncia che la conferenza doveva interrompersi. Ed era chiaro a tutti che fosse successo qualcosa, che avessero scoperto qualcosa. E infatti era così. La telefonata a cui il procuratore aveva risposto, infatti, era da parte degli investigatori che si trovavano in casa dei Dupont in quel momento. E gli avevano comunicato di aver fatto una scoperta terribile. Avevano infatti deciso di scavare sotto ad una specie di terrazzino di casa dei Dupont e avevano trovato lì una botola. E quando l'avevano aperta, avevano trovato dei sacchi neri dell'immondizia legati e chiusi con del nastro adesivo. E all'interno di questi sacchi c'erano i corpi di tutti i membri della famiglia Dupont. Ed erano tutti avvolti in delle lenzuola e coperte, proprio quelle che mancavano da tutti i loro letti. I corpi ritrovati però erano di Agnes, Arthur, Thomas, Anne e Benoit. E purtroppo c'erano anche i corpi dei due cani. Vengono ritrovati anche loro in quella fossa senza vita. Ma ne mancava uno di corpo, quello di Xavier, il padre. E insieme ai corpi in questi sacchi, e questa è la parte che trovo spaventosamente simile al caso della famiglia Thoth, insieme ai corpi nei sacchi viene ritrovato anche un oggetto, cioè un oggetto per corpo. Come se ogni corpo avesse il proprio oggetto sacro, comunque un oggetto con un valore o affettivo o religioso. Hanno trovato un rosario, una statuetta della Madonna, un crocifisso, cose così. E questo dimostrava la vicinanza emotiva della persona che aveva seppellito quei corpi e del suo tentativo di dare ai suoi cari una sepoltura cattolica. Un'altra cosa curiosa è che i corpi di Agnes, Arthur, Anne e Benoit erano stati messi tutti insieme in una fossa, mentre invece il corpo di Thomas era stato messo da solo in una seconda fossa. Ma perché? Dopo questo ritrovamento viene emanato verso Xavier un mandato di cattura internazionale, perché ovviamente era a quel punto il principale sospettato. E non sapevano che cosa avesse fatto dopo. Cioè era fuggito? Era andato a togliersi la vita da qualche parte? Quali erano le sue intenzioni? Iniziano le ricerche e nel frattempo viene fatta l'autopsia sui corpi per capire come fossero morti. Indossavano tutti ancora il loro pigiama, quindi quando erano stati uccisi stavano probabilmente dormendo, comunque erano nel loro letto. Trovano anche residui di sonnifero nel sangue di tutti i ragazzi, di tutti i figli, che dimostrava che quel delitto fosse premeditato. Non trovano però tracce di sonnifero nel sangue di Agnes. Però lei tutte le notti dormiva con un macchinario che sembra una specie di respiratore, che serve se soffri di disturbo dell'apnea del sonno, cosa che appunto lei ne soffriva, e dormiva con questo macchinario tutte le notti, non poteva dormire senza. E trovano che questo macchinario era stato staccato il 4 aprile alle 3.30 del mattino. E quella infatti era l'ora presunta della sua morte. Perché poi da quel giorno, da quell'ora non era mai più stato acceso. E so che tutti i patiti di paranormale come me saranno avendo un brivido lungo la schiena, perché le 3.30 del mattino è tipicamente l'ora del diavolo in cui succedono solo cose brutte. E infatti così è stato anche in questo caso. Comunque l'autopsia conferma che tutti i membri della famiglia DuPont erano morti intorno al 4 aprile, anche se è stato impossibile determinare l'esatta data e l'esatta ora, e tutti con un colpo d'arma da fuoco dietro la nuca. E il proiettile apparteneva proprio al fucile che Xavier aveva ereditato da suo papà. Si pensa però che Thomas non fosse stato ucciso insieme agli altri, e che sia stato ucciso poco dopo, tipo il giorno dopo. E questo perché Thomas quella notte, la notte del 4, non c'era. Non era andato a dormire a casa sua, aveva dormito all'università. E la sera dopo, quindi il 5 aprile, aveva in programma di rimanere a dormire a casa di un suo amico, da cui stava passando la serata. E mentre stavano guardando la televisione insieme, Thomas aveva ricevuto una telefonata da parte di suo papà, che gli diceva di tornare a casa immediatamente perché sua mamma, Agnès, aveva appena avuto un incidente in bicicletta ed era all'ospedale in condizioni critiche, addirittura era entrata in coma. Quindi Thomas era subito tornato a casa. E si pensa che subito dopo sia stato ucciso. Il giorno dopo, infatti, il suo amico aveva provato a contattarlo, ovviamente sapendo che sua mamma fosse in coma all'ospedale, ma aveva ricevuto delle risposte strane, che non erano da lui. Il suo modo di scrivere era strano. Gli rispondeva con frasi molto brevi, tipo «ho il telefono scarico» o «sono malato, non posso risponderti». Insomma, sembravano scuse e non sembravano scritte neanche da lui. E si pensa che Xavier abbia aspettato ad uccidere Thomas perché non fosse convinto, comunque aveva esitato. Thomas sarebbe stato l'erede di Xavier. Anche perché Arthur non era il suo vero figlio, era il primo genito ma non era il suo figlio biologico. Quindi Thomas sarebbe stato il suo successore. E per Xavier questa cosa era molto importante. Avere un'erede era una cosa importante per come lui era cresciuto. E uccidere la sua famiglia significava eliminare il nome della famiglia Dupont. Quindi è possibile che lui abbia esitato prima di uccidere Thomas e che abbia aspettato fino all'ultimo momento e quello era stato il motivo per cui lo aveva poi seppellito in un'altra fossa. Comunque i detective ispezionano la casa, centimetro per centimetro. Ma la cosa assurda è che non riescono a trovare neanche una goccia di sangue da nessuna parte. Non trovano neanche impronte digitali sui sacchi o sul nastro adesivo con cui erano stati chiusi. Né un'impronta né il DNA di Xavier. Niente, tutto ciò era estremamente strano. E Xavier non aveva mai avuto problemi con la legge, eppure quello sembrava un delitto compiuto appunto da un professionista. Cioè erano morte cinque persone in quella casa con dei colpi di fucile. E com'era possibile che tutto fosse così perfetto? Inoltre, diverse persone che lo conoscevano sostenevano che Xavier soffrisse di problemi alla schiena. A quanto pare soffriva di fortissimi dolori alla schiena. Quindi tanti ritengono che fosse impossibile che da solo fosse riuscito a scavare quelle fosse e a trasportare cinque corpi là dentro. Comunque, a questo punto nessuno aveva idea di dove fosse Xavier. La polizia inizia a setacciare ristoranti, alberghi, ma senza nessun successo. Ma ad un certo punto, dopo qualche giorno, viene localizzata l'auto di Xavier nel parcheggio di un hotel. In un'altra cittadina nel sud della Francia. Quindi dalle telecamere delle varie autostrade riescono a ricostruire un po' i suoi movimenti. Era partito da Nantes l'11 aprile, una settimana dopo i delitti. Aveva guidato fino alla Rochelle, aveva pranzato in un ristorante molto bello pagando con la sua carta di credito. E poi aveva soggiornato in un albergo lì per poi rimettersi in viaggio verso sud-ovest. La cosa assurda è che Xavier non aveva nessuna fretta. Non si preoccupava di nascondersi per niente. La prima cosa che si impara nei film quando non vuoi essere trovato è che non devi usare la tua carta di credito. E invece a lui non fregava niente. Pagava sempre e solo con la sua carta di credito, prelevava gli sportelli del bancomat, incurante delle telecamere, incurante del fatto che lo avrebbero rintracciato. E questo convince ancora di più gli investigatori che probabilmente Xavier si sarebbe tolto la vita di lì a poco. E che forse stava approfittando dei suoi ultimi giorni per godersi insomma la vita. Infatti stava facendo, secondo gli investigatori, una specie di pellegrinaggio perché stava passando da tutte delle città che per lui significavano qualcosa. Cioè che nella sua vita erano state importanti. Per esempio passa dalla cittadina in cui aveva vissuto con Agnes, sua moglie. Passa dalla cittadina in cui erano nati i suoi figli. Perché questa è la dinamica più comune in casi come questo. Solitamente quando il papà uccide tutta la sua famiglia poi si toglie la vita. Nel 98% dei casi si toglie la vita. Comunque la polizia aveva appunto trovato la macchina di Xavier nel parcheggio di questo hotel come ho detto poco fa. E quando guardano le telecamere di sicurezza vedono che Xavier dopo aver fatto il check out dall'albergo aveva attraversato il parcheggio a piedi da solo abbandonando la sua macchina lì nel parcheggio con a tracolla una specie di sacca. Una specie di porta abiti ma all'interno si poteva vedere benissimo che ci fosse un oggetto che assomigliava molto al suo fucile. E in questa registrazione si vede che ad un certo punto Xavier si gira verso la telecamera e saluta. E dice proprio addio sorridendo e poi se ne va. Ora in quella zona intorno a quell'hotel non c'era un bel niente. c'erano solo montagne, boschi, natura selvaggia e basta. Era pieno di luoghi desolati in cui secondo le autorità Xavier sarebbe potuto andare per togliersi la vita. Quindi immediatamente le autorità si mettono a cercarlo. Lo cercano con diverse squadre di ricerca, cani molecolari e lo cercano per settimane, ovunque, in qualsiasi cespuglio o grotta, in qualsiasi angolo di questo bosco, di queste montagne. Ma di Xavier non c'era nessuna traccia. E contate che quando Xavier si era allontanato, quando si era inoltrato in questi boschi, non era attrezzato per sopravvivere a lungo. Tolto che da quello che sappiamo non era neanche un esperto in sopravvivenza nella natura selvaggia, ma comunque non aveva i vestiti adatti. Aveva con sé solo questa sacca con il fucile. Non aveva cibo, non aveva acqua. Dalle registrazioni perlomeno non sembrava attrezzato per sopravvivere a lungo nei boschi. Quindi non poteva essere andato lontano. Eppure lo cercano per giorni, settimane, mesi, ma non trovano niente. Il mistero, quindi, ancora oggi è dove è finito Xavier? È possibile che sia stata solo tutta una manovra di depistaggio? È possibile che avesse già pianificato tutto prima? E avesse voluto che la polizia pensasse che sarebbe andato a togliersi la vita in queste montagne? Ma magari invece ha fatto tutt'altro? E se ci pensate, è molto strano che la scena del crimine fosse così tanto perfetta, pulita così tanto da far pensare che ci fosse lo zampino di un professionista, mentre poi dal giorno dopo è strano che Xavier fosse diventato così sprovveduto, così non curante al fatto di essere beccato, al fatto di essere visto dalle telecamere, usava la carta di credito, insomma, è strano questo. È un controsenso. Perché essere così meticoloso prima se poi sembra che vuoi farti beccare dopo? La cittadina da cui è scomparso, di cui non so pronunciare il nome, quindi non ci proverò neanche, sarebbe effettivamente un posto perfetto per una persona che non vuole farsi trovare. Perché da lì partono diverse imbarcazioni, anche mercantili, e ogni giorno passano anche diversi treni con cui si potrebbe anche lasciare il paese e andare, per esempio, anche in Italia. Infatti per un periodo chi l'ha visto ha fatto il suo solito terrorismo psicologico. Oh mio Dio, Xavier Dupont potrebbe essere in Italia, state attenti. Però in effetti in questo caso è vero. Xavier potrebbe essere davvero ovunque. Alcuni sostengono che potrebbe essere andato a vivere in Sud America. E questo perché aveva sempre avuto un debole per il Sud America e in più parlava molto bene sia l'inglese che lo spagnolo. E oltretutto, se ci facciamo caso, Xavier ha un aspetto molto anonimo. È una persona molto normale. Quindi sarebbe facile per lui confondersi tra la folla un po' ovunque. Nel giugno del 2013 però trovano dei resti, delle ossa, proprio poco lontano da dove Xavier era stato visto per l'ultima volta. E all'inizio, ovviamente, tutti erano convinti che si trattasse di lui. Ma dopo aver fatto l'esame del DNA, sono arrivati alla conclusione che quei resti appartenevano ad un altro uomo. Non sono neanche sicura che siano riusciti ad identificare quest'uomo, ma sono riusciti ad avere la conferma che non si trattasse di Xavier. Nel luglio del 2015, un giornalista di Nantes ha ricevuto una lettera che fa venire i brividi. All'interno c'era una foto di due figli di Xavier, una foto vecchia, ovviamente, di quando erano ancora vivi. E dietro questa foto c'era scritto a penna sono ancora vivo. Io davvero ho avuto i brividi quando l'ho letto perché vi ricordate il dettaglio delle foto? Erano sparite tutte le foto da casa Dupont. Qualcuno le aveva tolte e se le era portate via, presumibilmente Xavier. Quindi probabilmente Xavier sapendo di scappare si era portato via tutte le foto della sua famiglia per ricordo. Quindi se fosse davvero ancora vivo, se avesse voluto mandare questa foto, perché poi si trattava di una foto vera, quella che il giornalista aveva ricevuto, non era la stampa di una foto, era una foto reale dei due figli di Xavier. Quindi chi lo sa? L'11 ottobre del 2019 invece le autorità vedono un uomo all'aeroporto imbarcarsi su un volo easy jet diretto verso Glasgow e sono certi al 100% che si tratti di Xavier. Allora contattano le autorità di Glasgow per trattenerlo, perché non riescono ad arrivare in tempo prima che si imbarcasse sull'aereo e all'arrivo a Glasgow le autorità lo prendono e lo arrestano per 26 ore. E quando gli prendono le impronte digitali effettivamente hanno un riscontro parziale con le impronte di Xavier. Ma invece il test del DNA dimostra che i due non fossero la stessa persona e il DNA non mente. Quest'uomo infatti si chiamava Guy Joe Joe non so pronunciarlo e non era Xavier. Ma grazie alla messa in onda della puntata di Unsolved Mysteries su Netflix questo caso ovviamente ha avuto una nuova e molto più vasta notorietà e visibilità ovviamente e in seguito a questa puntata le autorità hanno ricevuto più di 2000 segnalazioni da persone che dicevano di aver visto Xavier. La più interessante diciamo riguarda un avvistamento a Chicago. Due persone infatti si trovavano a Lakeshore Drive quando ad un certo punto avevano sentito un uomo parlare in francese e quando si erano girati giurano che quell'uomo fosse uguale identico a Xavier ma per coincidenza queste persone dicevano di aver appena finito di guardare l'episodio di Unsolved Mysteries quindi non so nel senso che coincidenza no? Magari si sono fatti influenzare un po' anche perché non ho trovato informazioni riguardanti questa segnalazione non si sa se quell'uomo alla fine fosse davvero Xavier oppure no quindi amici questo rimane davvero uno dei casi più misteriosi di cui io abbia mai sentito parlare e non so davvero che cosa pensare ma voglio comunque condividere con voi delle mie riflessioni purtroppo non è tanto strano che un padre all'apparenza perfetto e amorevole si svegli un giorno e decida di fare quello che Xavier ha fatto ci sono moltissime storie simili a questa e tutti appunto chi più chi meno utilizzano lo stesso modus operandi ma in questa storia ci sono dei dettagli veramente molto strani prima di tutto questa segretezza nel suo lavoro cioè che lavoro faceva perché nessuno lo ha mai capito tutti infatti dicevano che Xavier fosse molto riservato sul suo lavoro e che avesse molti progetti segreti faceva il misterioso perché in realtà non aveva un lavoro era un fallito tra virgolette perché non è che se uno non ha un lavoro è un fallito però forse questo è il motivo per cui diceva di avere progetti segreti perché si sentiva manchevole o magari lavorava davvero per qualche società segreta perché come è possibile io una cosa che non riesco a capire è come è possibile che sia stato così tanto meticoloso nel ripulire la scena del crimine così tanto da non far trovare neanche un capello lasciare il tuo dna è impossibile non lasciarlo perché non te ne accorgi neanche ma perdi anche pezzi di pelle che a occhio nudo non si vedono neanche ma lo lasci e quello è dna che poi gli esperti trovano sulle scene del crimine è impossibile riuscire a attuare il delitto perfetto quindi e se Xavier sapesse esattamente che cosa stava facendo sapesse come sparire magari il motivo per cui si è anche atteggiato da sbruffone davanti a quella telecamera nel parcheggio facendogli anche il salutino col sorriso e se fosse proprio perché sapeva che non l'avrebbero mai più trovato cioè come per dire ve l'ho fatta nessuno di voi saprà mai la verità e da un lato penso che in effetti la maggior parte di questi individui che fanno cose del genere alla fine ha anche la presunzione di pensare che può farla franca questa non è una cosa strana non per forza fan parte di società segrete sono semplicemente dei narcisisti ma non lo so a volte mi è capitato di pensare e se Xavier davvero non fosse quello che diceva di essere ma magari potrebbe anche essere che si è davvero tolto la vita e ha fatto quel saluto come per dire comunque non mi prenderete mai comunque deciderò io il mio destino quindi magari si è tolto la vita davvero tra quelle montagne ed è riuscito a nascondersi così bene che nessuno l'ha ancora mai trovato anche se mi viene poi da pensare ma se tu hai intenzione di toglierti la vita che te ne frega di nasconderti così bene di fare questo sfregio alle autorità di non farti mai trovare no se tanto sai che la tua vita sta finendo no che cosa te ne frega però vabbè insomma non penso di poter realmente capire che cosa succede all'interno della mente di questi elementi e non so queste sono un po' le mie considerazioni sparse ditemi le vostre secondo voi che cosa è successo secondo voi Xavier è ancora vivo è nascosto da qualche parte è riuscito davvero a farla franca perché sapeva che cosa stava facendo aveva delle risorse che noi non conosciamo magari aveva questi debiti perché era immischiato in cose più grandi di quelle che noi possiamo anche solo immaginare oppure pensate che sia tutto una non una coincidenza ma che insomma le autorità semplicemente magari abbiano fatto qualche errore e non siano riusciti a prenderlo in tempo non siano riusciti a vedere da subito che ci fosse qualcosa che non andava e se lo sono fatti scappare e pensate che Xavier appunto sia ancora vivo oppure che si sia tolto la vita da qualche parte fatemi sapere che cosa pensate nei commenti questo è un caso che davvero non mi fa dormire detto questo amici la smetto di blaterare e vi ringrazio di aver passato il vostro tempo con me anche oggi e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao